Ciao a tutti ragazzi, sono Gmet e oggi andremo ad analizzare altri due spoiler della 1.3.3 Cominciamo da questa immagine, sorpresi eh? Ebbene si, avremo un nuovo nemico nel bioma desertico, uno squalo che nuota letteralmente nella sabbia Sembra avere un'intelligenza artificiale simile a quella dei vermi, però da quanto si vede da questa gif non può passare attraverso altri blocchi che non siano sabbia Ora vi mostro due spezzoni a rallenti Come potete vedere quando lo squalo incontra questi blocchi di pietra, torna subito indietro E nel suo salto che fa poco dopo, sembra proprio che scavalchi i blocchi di pietra con un altro piccolo saltello Tutto questo mi fa pensare che posso nuotare solamente nella sabbia Mi è colpito anche molto lo sprite di questo squalo La testa mi ricorda molto un fossile, sembra quasi uno squalo preistorico Purtroppo non sappiamo altre informazioni riguardo a questo squalo Non sappiamo quanta vita ha, né se spawnerà solo in hard mode Lo scopriremo presto a settembre Dalla seconda gif possiamo vedere che verrà aggiunto un nuovo vanity È basato sul nemico Lamia Come sapete questo nemico spawna solo nel sottosuolo desertico in hard mode Davvero molto bello, sono contento che l'abbiano aggiunto Bene ragazzi, direi che possiamo concludere qua il video Questi sono gli altri due spoiler della 1.3.3 che abbiamo Ovviamente ne sono usciti anche altri Se non ne siete al corrente, guardate nella descrizione che c'è il link dell'altro mio video Ovviamente ragazzi, scrivete nei commenti un vostro pensiero Fatemi sapere cosa ne pensate di questi nuovi spoiler E a cosa potrebbero essere collegati Non so, scrivete quello che volete A me fa sempre piacere leggere i vostri commenti Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato utile Se è stato così lasciate un like e commentate Da Gimete è tutto, ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti